Buongiorno a tutti e benvenuti e ben arrivati a Pontida 2015. Questa è la mia prima edizione di Pontida da sindaco. Arrivo da parecchi anni di militanza e vi posso assicurare che il lavoro per preparare Pontida è in mane. Quindi per questo ringrazio tutti i militanti che in queste due o tre settimane hanno lavorato per preparare Pontida. Hanno speso le loro ferie per preparare Pontida. Ci hanno messo tutta la loro forza. Dopo una giornata di lavoro venivano sul pratone a lavorare per preparare una degna Pontida. Grazie a tutti i militanti. Come detto prima, io sono sindaco da poco meno di un anno. Parlo a nome di tutti i sindaci. Noi oggi dobbiamo far diventare questa giornata, con il mio, il vostro e l'impegno di tutti, l'inizio della fine del governo Renzi. Un governo che uccide i comuni perché toglie tutti i trasferimenti, uccide le regioni, uccide tutta l'amministrazione. Abbiamo altresì un governo che ha distribuito mance, ma ha utilizzato i nostri soldi, i soldi delle pubbliche amministrazioni. Ha distribuito gli 80 euro e ha fatto mancare i soldi delle amministrazioni. Tutti questi soldi li ha rubati alle nostre amministrazioni, questo governo. E' un governo che comunque si permette di pagare le bollette ai campi Rom. E questo non va bene. Finanze ai clandestini. Non dobbiamo più permettere questo. E' ora di dire basta. E' giusto appunto ieri e l'altro ieri. Si è saputo che un comune come quello di Roma ha un buco di 320 milioni di euro. E chi volete che li paghi? Chi volete che li tiri fuori questi soldi? Ancora noi si inventeranno il Salva Roma 18, 19 e 20. E per altri anni andranno avanti a fare questo sporco lavoro. Adesso lascio la parola a chi viene dopo di me come intervento e dico solo due cose. Pontida libera e Padagna libera sempre!